Un morbido cappotto di pelo, una piccola statura e tanta fame. Sono loro i nuovi tosaerba naturali, dei piccoli esemplari di pecore d'Uessan, che sono i nuovi tosaerba del comune di Bagnaripoli, a cui è stato affidato in maniera del tutto eccezionale lo sfalcio di alcune aree comunali. Sono pecore nane, vengono da un'isola bretone che si chiama l'Ile d'Uessan, spazzata dai venti dell'oceano atlantico. Sono molto frugali, mangiano qualsiasi tipo di erba. Normalmente le pecore sono molto più selettive. Essendo nane, sono molto leggere, quindi non sciupano il manto erboso e non sciupano gli olivi, soprattutto. Quindi è possibile abbinare l'attività olivicola e l'allevamento delle pecore, proprio per la cura del territorio. Mentre mangiano l'erba, poi concimano anche il terreno e in sostanza mantengono il territorio come si faceva una volta. È un'iniziativa che secondo noi può essere assolutamente ripetuta, sia per enti pubblici che per enti privati. Pensate a un capannone con un prato intorno o uffici con un prato intorno in cui possiamo tenere il prato e chi lavora rilassarsi un attimo nel vedere pecore anziché e autostrade anziché macchine, anziché cose meno naturali delle pecore. È una nuova iniziativa sull'ambiente e sulla sostenibilità da parte del Comune Bagnarripoli che ormai da qualche mese fa parte, a piano titolo, della rete dei comuni sostenibili d'Italia ed è un percorso e una rete che ci spinge sicuramente a effettuare sempre più investimenti sulla sostenibilità, sulla biodiversità e in questo caso con queste amiche pecore, pecorine di razza bretone che sono pecore nane di piccole dimensioni, quindi molto leggere ma in grado nel contempo di radere, tosare l'erba in modo assolutamente sostenibile ed ecologico e anche prati di vaste dimensioni. Iniziamo qui da queste aree un pochino più marginali se vogliamo, più ai confini del nostro territorio perché siamo in una fase sperimentale ma abbiamo già in programma di sfalciare in questo modo così ecologico anche alcuni parchi pubblici del nostro territorio, alcune aree lungo strada, peraltro di difficile manutenzione grazie proprio a queste nostre piccole amiche.